Guardi, lui è amico, prima di tutto era amico della gente semplice e lo vedete dalla formazione del pubblico in chiesa e poi anche dei potenti. Io mi ricordo che quando ero ragazzo parlavo tranquillamente con il Presidente del Consiglio in compagnia nelle periferie degli uomini più semplici che io ho conosciuto nella mia esperienza di vita, che gli facevano le domande, allora Presidente, Giulio, come vanno le cose? Cosa farai la prossima settimana? E lui spiegava qual era la strategia del Governo. Io non ho più visto questi Presidenti del Consiglio nelle sezioni dei partiti o nelle università fra i giovani. Andreotti è stato un grande esempio e non è stato l'unico. C'è una classe dirigente che ha segnato la storia di questo Paese e che non c'è più.